Comunque l'occhio nero me l'ha fatto la Gabri perché è arrivata in macchina con la Doxiter e io Gabri amore mio amore mio Allora ho aperto la portiera, è venuta giù, io mi sono abbassato e lei con la zampona bubùm E bubùm sull'occhio Amore mio grigio Amore grigio Ricchi Nicoletti, marito della celebre Francesca Ferragni Ha lasciato i suoi fan in sospeso con una notizia insolita Un occhio nero Ma la colpevole non è stata una lite domestica o un incidente da set No, il colpevole è stato nient'altro che il loro adorato cane, Gabriella In un momento di eccessiva gioia La pelosa amica ha dato una zampata un po' troppo energica Lasciando a Ricchi un vivace livido sotto l'occhio Fortunatamente, la situazione non è stata grave E Ricchi ha voluto condividere l'accaduto Con un tocco di umorismo Gabriella è stata troppo affettuosa questa volta Scherza Ricchi, con i suoi seguaci sui social media Anche se potrebbe aver fatto sobbalzare alcuni fan La vicenda è stata accolta con simpatia e risate da parte di tutti Alla fine, sembra che Ricchi abbia preso la cosa con leggerezza Dimostrando che anche di fronte a piccoli contrattempi Il suo spirito positivo non viene mai meno Mi stai avvelenando per prenderti la mia eredità La mia eredità è una due chitarre e una mesa bugia Non fai un affare La buona feta è amore, aspetta Aspetta di vedere cosa capita al papà Alla fine, la mia eredità è stata accolta con la mia eredità